Gentili telespettatori, buona giornata. La DIGOS, che è quella sezione della polizia che si occupa di reati di matrice politica, fa un'ispezione sulla nave della Sea-Watch, perché ha disatteso quelli che erano gli ordini delle autorità italiane di sbarcare a Trapani, invece loro hanno sbarcato a Lampedusa, hanno sbarcato dove hanno voluto, hanno fatto la stessa cosa che fece Carola, hanno sbarcato dove hanno reputato giusto. E così sabato la nave Aurora della ONG ha traccato a Lampedusa facendo sbarcare 72 migranti, sebbene le autorità italiane avessero indirizzato l'imbarcazione verso il porto di Trapani. Gli uomini della ONG hanno motivato la scelta, di fatto una sfida, l'ennesima, alle leggi italiane in materia di immigrazione, perché? Visto che il governo sta chiedendo aiuto alle ONG, adesso le ONG fanno quello che hanno voglia. Dice, ah sì, tu mi chiedi aiuto, allora non mi dare fastidio sul porto di sbarco, io sbarco dove mi pare, piace. Il punto più vicino, Lampedusa. Gli uomini della ONG hanno detto che non avevano più benzina, mancanza di carburante non potevano arrivare a Trapani. Gli ispettori della Guardia Costiera, Polizia e Digos sono saliti sull'Aurora per verificare se quanto detto dalla Sea-Watch corrisponda a verità. Si valuterà ora l'eventuale sanzione o il fermo amministrativo della nave come previsto dal decreto Cutro. Secondo il personale a bordo della nave Aurora, di questa ONG Sea-Watch, le scorte di acqua sulla nave erano ormai limitate, come anche il carburante. Dicono, il sole brucia inesorabilmente e mette in pericolo i nostri ospiti. L'Aurora è una nave lunga 14,5 metri che non riesce a ospitare equipaggio e ospiti all'interno. È estremamente difficile garantire il benessere di 72 persone a bordo poiché manca spazio, servizi igienici e sistemazione adeguata. Quindi loro fanno capire che la nave non è adeguata per fare una cosa del genere, quindi noi sbarchiamo a Lampedusa, non ci arriviamo fino a Trapani. Il personale di bordo, li chiamano volontari, poi bisogna vedere se realmente sono volontari, perché spesso vengono pagati e come, puntano il dito contro le scelte delle autorità e del governo italiano, e sul loro account Twitter scrivono che ancora una volta le autorità hanno abbandonato per ore decine di persone sotto il sole, ignorando il dovere legale di portarle al sicuro il prima possibile. Questa è l'accusa di questa ONG, che è tedesca. Beh, lì ovviamente quello che fanno queste ONG, che fanno in Italia, ovviamente non lo farebbero mai in patria, non lo farebbero mai in Germania, quelle di Medici Senza Frontiere non lo farebbero mai in Francia, perché prima di tutto queste ONG vengono sovvenzionate da questi paesi, quindi Parlamento, Stato, Comuni, Regioni, Governi, pagano e danno soldi a queste ONG. A patto, ovviamente non scritto, però a patto, che loro non tornino in patria con i migranti. Immigranti portateli in Italia. Tanto questi governi dicono a queste ONG, tanto noi abbiamo degli accordi con l'Italia, noi facciamo la redistribuzione volontaria. In realtà la redistribuzione volontaria è una roba simbolica, prettamente simbolica. Si parla in un anno di pochissime decine di persone distribuite in Francia e in Germania. Quindi loro che cosa dicono? Io pago l'ONG, la mantengo, lei va a fare i salvataggi e porta le persone in Italia. Tanto poi c'è la redistribuzione, poi li prendiamo dopo. Naturalmente in Italia ne entrano 200.000 e in Francia e in Germania ne vanno 20 in Francia e 20 in Germania. Quindi la redistribuzione è una presa in giro per sentirsi a posto con la coscienza. Io dico a queste navi di non tornare qui con i clandestini, di portarle in Italia. Tanto noi poi volontariamente siamo dei pochi paesi che accettano la distribuzione, quella proprio volontaria. Naturalmente le leggi italiane poi, insomma, voi sapete che il PD insieme ai grillini hanno smantellato i decreti sicurezza di Salvini. Se la ONG Sea Watch avesse fatto questo di sbarcare dove gli pare, lo avesse fatto in Francia o in Germania o in Spagna, prendiamo la Spagna, avrebbero arrestato il comandante, matematico arrestato, gli avrebbero messo una multa personale di un milione di euro e avrebbero confiscato la nave. Ovviamente, se noi avessimo avuto le stesse leggi spagnole, questa nave sarebbe andata a Trapani. Magicamente il carburante sarebbe bastato. Tanto sanno che non arrivano multe, se c'è la multa a massimo 10.000 euro simbolica, quindi non arrivano multe, non ci sono arresti, anzi, la nostra sinistra poi ti definisce anche una specie di nuovo eroe. Magari ti arriva qualche medaglia, qualche onorificenza di qualche comune, quindi dalla Spagna che ti mettono in galera e devi pagare, in Italia che ti chiamano nelle trasmissioni televisive come un eroe. Ecco, capite perché io spesso definisco l'Italia la repubblica delle banane? Perché lo è. Non è un modo di dire ciò, ma dici delle cose, edico delle cose perché quelle cose rispecchiano la realtà. Quindi non è che vedo cose e parlo con gente, non vedo cose immaginarie, vedo cose che voi umani non potreste neanche immaginare. Beh, insomma, basta un po' di cervello, fate uno più uno e queste cose si vedono benissimo. Poi c'è chi non le vuole vedere, lì il problema non è mio. Ecco, grazie a tutti per avermi ascoltato, vi auguro buon proseguimento di giornata, ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti. Arrivederci a tutti e grazie. Grazie a tutti.